videoripresa con huawei media pad m3 fan veloce abbiamo attivato lo stabilizzatore digitale mazza e belle giornate messa a fuoco touch rientriamo che fa frecce andiamo a chiudere se vi serve qualche medicina ok qui ha messo a fuoco da solo purtroppo non è dotato di flash vedo che raccoglie una discreta luce nonostante tutto ok